Fra poco inizierà quella che è la streaming war, la guerra di concorrenza tra le varie piattaforme streaming, quelle già presenti come ad esempio Netflix, Prime Video e quelle che stanno arrivando Apple TV+, Disney+. Tutte queste piattaforme streaming si sfideranno all'ultimo colpo, chi produrrà il miglior film, chi la miglior serie. In questo periodo siamo sommersi da tantissime serie che vengono annunciate e una di quelle che io aspetto di più, che probabilmente sarà un titolo importante portato da Netflix proprio per quanto riguarda questa streaming war per cercare di vincerla, è The Witcher. E oggi voglio parlarvi dell'ultimo trailer cercando un po' di dirvi quali sono le mie aspettative e perché aspetto effettivamente questa serie. Ovviamente poi voglio sapere la vostra nei commenti, ditemi cosa vi aspettate da questa mini serie che conterà se non sbaglio appunto 8 episodi, che uscirà dal 20 dicembre su Netflix, quindi l'attendo tantissimo. Fatemi sapere il vostro parere e in descrizione, anche qua nelle schede, vi lascio magari i due video che ho realizzato proprio sul tema della streaming war, uno incentrato più su Disney+, li trovate qua in descrizione e ovviamente sempre in descrizione trovate anche i vari link per seguirmi sui social, Facebook, Telegram e in particolare Instagram. Mi raccomando seguitemi anche lì perché integro un po' tutte le attività del canale e sempre qua sotto trovate il tasso per iscrivervi, se vi va attivate magari anche la campanella così non vi perdete nessun appuntamento. Finiti gli annunci di rito, passiamo al sodo. Io non ho mai letto i libri proprio dedicati a The Witcher, a Geralt di Rivia, il protagonista della serie di Netflix. Non ho mai letto i libri su cui la serie si basa, ma ho giocato al videogioco. Videogioco che comprende diciamo in realtà tre titoli, ma il più famoso è l'ultimo, The Witcher 3, che è diventato famoso per la bellezza della storia, per la bellezza e la fantasia del mondo in cui questa è ambientata. Anche io sono rimasto stregato e ammaliato da questo titolo che ho giocato con tantissima passione e che ancora oggi ricordo e ogni tanto mi viene voglia di rigiocarci. Sono non uno dei più grandi fan, ma comunque uno che ha apprezzato assolutamente The Witcher 3 e questa serie, anche se ripeto si basa come per la trama diciamo sui libri, riprende lo stile estetico del videogioco e si vede. Ero un po' scettico per quanto mi riguarda su certi aspetti di questa serie perché mi sembrava che ad esempio i personaggi secondari non fossero effettivamente come me li aspettavo e questo trailer ha riconfermato questo mio dubbio. Sono un po' preoccupato per come tratteranno tutti i personaggi intorno a Geralt che nel videogioco erano una cosa essenziale, importante, erano parte essenziale del mondo di Geralt. Qua sembrano essere un po' diversi da come li abbiamo conosciuti nel videogioco e anche la trama sembra essere diversa. Si capisce poco. Si capisce che c'è qualcuno in pericolo che lui deve aiutarlo, come sempre nello stile di The Witcher che tra parentesi, per chi non lo sapesse, lui è una specie di... è uno strego, il termine preciso è quello. È un cacciatore di mostri ma che svolge anche lavori di ogni genere grazie ai suoi poteri magici, se così possiamo dire, e alle sue grandi abilità in combattimento. È un personaggio solitario però allo stesso tempo, ombroso ma allo stesso tempo buono di cuore. Ed è proprio questo suo carattere che ha fatto innamorare tantissimi videogiocatori e anche chi ha letto il libro. E lui probabilmente dovrà aiutare un qualcuno a fare un qualcosa, non si capisce precisamente cosa e di questo ne sono contento perché poi la trama preferirei scoprirla durante la serie. Però, ripeto, voglio vedere come caratterizzeranno i personaggi intorno a Geralt perché sono essenziali e come li hanno, diciamo, gestiti per quanto riguarda il casting e il trucco e i costumi, per ora non mi convincono. Vedremo. Mentre invece mi convince Henry Cavill, il Superman dell'EC Universe, nei panni di Geralt. All'inizio, ripeto, anche qua ero un po' scettico perché ce lo vedevo ma sembrava un po' troppo giovane, troppo poco vissuto, troppo poco ferito anche nel volto rispetto invece al Geralt del videogioco che è in là con gli anni. Avrei visto magari qualche altro attore nei panni di questo protagonista ma c'è un fatto che invece mi fa ben sperare. Henry Cavill, anche se è un figo e che si può permettere di fare di Superman, è un nerd come molti, è un appassionato di videogiochi, film e tanto altro, fumetti e soprattutto è un grandissimo appassionato, un grandissimo amante, da lui dichiarato più volte ancora prima che ottenesse il ruolo per la serie, proprio di The Witcher e quindi, diciamo, è stato anche lui stesso a proporsi in quel ruolo. Quindi sono contento perché un attore che ama la materia originale sicuramente può dare un apporto interessante e comunque in questo secondo trailer, sia a livello estetico che a livello interpretativo, mi sembra molto più nel personaggio e sono curioso di vedere quindi la sua versione. Questo trailer mi ha convinto ancora di più, soprattutto perché le atmosfere che si vedono, i colori, lo stile proprio dell'ambientazione di questo mondo fantasy mi ricordano in tutto e per tutto quelle che ho visto nel videogioco, adattate al cinema, un po' rivisitate, forse un pochettino più cupe, un po' più su viranti al blu rispetto magari invece ai toni caldi che spesso trovavamo nel videogioco, ma le atmosfere sono quelle, i mostri sembrano essere quelli, i vestiari, i costumi sembrano ricordare perfettamente i nemici, i comprimari che troviamo nel videogioco, lo stile di The Witcher mi sembra esserci, sono curioso di vedere tutte le creature che lui combatterà, quando le combatterà, come saranno realizzate in CGI, che effetti useranno, magari useranno anche degli effetti più materiali, sono curioso perché dal trailer mi sembra che abbiano fatto un buon lavoro. Vedremo, sono curioso, soprattutto spero che puntino su una cosa, la storia, la trama e i personaggi, perché The Witcher vive di quello, oltre che dell'ambientazione e del lato estetico e visivo, che riesce perfettamente a mischiarsi ad una storia fantastica. Spero che questo punto saldo del videogioco venga rispettato e che venga inserito all'interno della serie. Il videogioco aveva alcuni difetti, ad esempio il combat system che non era proprio perfetto. Spero che nella serie invece le fasi di combattimento, le battaglie, siano interessanti e che riescano ad esaltare l'ambientazione fantasy medievale circa del videogioco. Queste sono le mie aspettative e anche un po' qualche mia preoccupazione riguardo alla serie The Witcher. L'aspetto tantissimo e secondo me, spero, sarà un titolo interessante e sarà sicuramente uno dei titoli di punta per la streaming war, che cercherà di combattere, di contrastare tutte le altre case streaming, piattaforme streaming che piano piano si stanno approcciando e stanno facendo pressione a Netflix. Io concludo qua questo video, spero di aver sviscerato abbastanza in maniera approfondita l'argomento. Fatemi sapere il vostro parere nei commenti, come sempre. Vi ripeto di andare in descrizione se vi va per guardare i vari link dei social, così potete seguirmi anche lì, in particolare su Instagram. Iscrivetevi al canale se vi va attivando la campanella, così non vi perdete neanche un appuntamento, se ovviamente vi va di iscrivervi e di seguirmi. E vi invito a rincontrarci nel prossimo appuntamento che realizzerò qua sul canale. Non so ancora quale sarà, perché non so quando riuscirò a pubblicare questo video. Comunque, ci vediamo alla prossima. Grazie per l'attenzione. Ciao a tutti. Grazie a tutti.